C'è una partita più difficile di quanto ci sia aspettasse contro una Bernalda che non si è mai arresa? Ok, ma io non ho capito perché noi pensiamo se noi possiamo giocare una partita facile perché quando se torniamo 3-4 mesi fa una prognosa e altre, ma ok, sicuramente no facile e anche no difficile, dobbiamo vincere sicuramente uno psicologico è difficile, ma noi stare tranne i primi 15 minuti, noi stare sempre avanti, secondo me è tutto sotto controllo. Ecco, nelle sorprese non mancano mai, Roseto ieri sconfitta a Roma dalla Stella Azzurra, quindi diciamo che il campionato è ancora tutto da scrivere. Come no, c'è ancora quanto, 14 partite, 28 punti, qua il campionato troppo pericoloso, non si può dimenticare se due mesi fa Corato ha vinto Reggio Calabria, secondo me non c'è sorpresa in campionato, devo stare sempre attento, di più quando si gioca a casa e se devo sempre penso solo partita per partita. L'ultima battuta riguarda Palestrina, prossimo avversario dei Pescaresi a Casaloro nel Lazio, quali sono le chiavi per vincere la prossima partita, coach? Io penso che Palestrina è una squadra che è simile a Bernal, devo stare attento, c'è due o tre giocatori che gioca individuale, ottimo, che c'è esperienza, noi dobbiamo stare attenti in difesa, dopo in attacco possiamo correre più veloce, speriamo se dopo tre o quattro partite facciamo una partita dove noi abbiamo buon tiro fuori. Grazie. Grazie.